Una speranza in più per il Tribunale di Pinerolo. È stato fatto un passo avanti per evitare la soppressione del Tribunale di Pinerolo. Il Consiglio giudiziario del Piemonte-Valle d'Aosta ha espresso parere negativo sulla soppressione del Tribunale della Procura di Pinerolo. Una scelta importante da prendere in considerazione durante i lavori delle commissioni parlamentari della Camera e del Senato. Nei giorni scorsi la Presidente del Tribunale di Pinerolo, Simonetta Rossotti, aveva inviato al Consiglio giudiziario di Torino una dettagliata relazione con la quale paragonava il Tribunale pinerolese con quello di Ivrea, che invece non è nell'elenco di quelli soppressi. Abbiamo raggiunto al telefono il giudice Alberto Giannone. Il Consiglio giudiziario del Piemonte-Valle d'Aosta, che sovraintende all'organizzazione di tutti i Tribunali rispetto alla Corte di Torino, ha favorevole sul complesso della riforma e quindi anche sulla soppressione di tutti i Tribunali, come proposte dal Ministro, ma ha espresso un parere negativo soltanto sulla soppressione del Tribunale della Procura di Pinerolo, in quanto ciò sarebbe in contrasto con i principi e con la disciplina della legge delega. E quindi Pinerolo deve essere salvata secondo i magistrati del Piemonte e della Valle d'Aosta. Questo parere è stato richiesto dal Parlamento e in particolare dalla Commissione Justizia della Camera e dal suo Presidente Onorevole Giulia Buongiorno, in quanto il Parlamento deve esprimere un parere sul progetto di riforma del Ministro Severino, che è l'ultimo passaggio prima dell'emanazione del decreto legislativo da parte del Governo. Al lavoro per evitare il Raid Party Questa mattina in Comune a Pinerolo si è svolto un incontro con tutte le forze dell'Ordine e la Procura della Repubblica per mettere a punto le strategie per evitare che a Ferragosto, come già era successo nel 2007, il comprensorio militare di Baudenasca venga preso d'assalto dal popolo dei Raid Party. Le vie d'accesso sono già state bloccate con massi cancelli. Non mancheranno poi continui controlli da parte di carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza e inizia cavalleria. Molta attenzione sarà anche rivolta ai siti internet. Infatti queste feste vengono organizzate con un veloce tam-tam su internet. Il giudice del Tribunale di Pinerolo, Luca Del Colle, ha convalidato questa mattina gli arresti dei tre giovani profughi nigeriani ospitati dalla cooperativa Progest a Frossasco. I tre sono però poi stati rimessi in libertà in attesa del processo. I giovani ieri, durante la protesta per il permesso di soggiorno, avevano chiuso in una camera la direttrice della cooperativa. Gli appuntamenti di domani A Torre Pellicio, alle 21.15, Paolo Ricca presenta La Fede Cristiana Evangelica, un commento al Catechismo di Heidelberg. A Macello, alle 21, inaugurazione della mostra fotografica sulla comunità storica di Macello, a cura della Proloco. A seguire, Giocando nel Verde, concorso di idee per il Parco Giochi. Arorà, nel Parco Montano, alla 21, musica con tre DJ da Udine, dal Belgio e dalla Francia. Ingresso a 5 euro, campeggio libero. Grazie a tutti.